Ciao a tutti amici e amiche, torniamo a parlare di fumetti e lo facciamo con l'ultimo numero di Giulia. È già a casa mia da qualche giorno, ma ho trovato un attimo oggi per completare la lettura e per portarvelo sul canale. Come vedete il mio impegno su questo canale è diciamo costante perché tra i video musicali e tra i video di fumetti se non faccio un video al giorno poi se salto due o tre giorni devo fare un paio di video magari nello stesso giorno quando posso. Quindi come vedete il mio impegno non è diminuito, è aumentato su questo canale che esiste ben dal 2018 e quindi è il mio primo canale, è quello che non ho mai abbandonato, è quello che adesso sto portando avanti con tutto il vostro supporto che vedo che non manca e quindi mi fa molto piacere. Allora cominciamo pure così, dopo l'imbarazzo che io ho provato, io stesso ho provato imbarazzo nel leggere Codeste Ciofeche, Dylan Dogg e Zagor, che ne ho già parlato quindi se non sapete come la penso andate a spulciarvi i video, magari ve li metto nel finale, nelle schermate finali vi metto le recensioni a questi due albi criminali, criminali nel senso che sono potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo. Adesso arriva Giulia, ragazzi se non è il terzo quasi capolavoro di fila poco ci manca, nel senso che io sono sempre sincero, i numeri 308, è caduta una stella e il 309, il ghiaccio nel cuore, mi avevano davvero favorevolmente impressionato. Giulia si sta riprendendo, in realtà ne ho parlato male anch'io in passato, ora quei video sono andati persi per un motivo o per l'altro, ma sto recuperando con questo canale, quindi cerco di aggiungere ad ogni video qualche particolare che magari è andato perso nelle grinfie o per mano di qualcuno. Io Giulia l'ho criticato per un periodo, l'ho criticato perché comunque non mi riusciva a dare più nulla, questa sorta di diabolic al femminile, se così possiamo chiamarlo, o questa sorta di Nick Rider al femminile, forse ancora meglio, non mi esaltava del tutto. Devo dire che il numero 308 e 309 sono stati due albi veramente veramente buoni, ai quali sicuramente do un 7 pieno. Questo qui è giusto un gradino sotto, gli do un 6,5, ma siamo di poco sotto, forse anche qualcosina di più al 6,5, ma non raggiunge il 7 o 7,5 come i due precedenti, però ragazzi, dopo aver letto l'ultimo Zagor e l'ultimo Dylan Dog, questo è un capolavoro assoluto, cioè nel senso, se contestualizziamo questo albo di Giulia nelle letture del mese a livello di Bonelli, che sono quelle che porto più solitamente sul canale, ma non sono le uniche che faccio, ve lo posso assicurare, nelle mie letture ci sono anche dei manga, Topolino, solo che essendo letture più sporadiche, e che faccio magari con più lentezza, poi sono magari delle collane, non dico Topolino, ma magari i manga, magari aspetto di finire la collana per portare poi quel video ogni sei mesi o una volta all'anno, invece questi qua che sono numeri seriali e molte volte autoconclusivi si prestano di più a questa, cioè si prestano di più alle recensioni. Allora, visioni, leggiamo subito i crediti, dai non perdiamo tempo, altro tempo, sceneggiatura Berardi Mantero, disegni di Antinori, copertina di Cristiano Spadoni, la copertina molto molto bella, secondo me, il volto di Giulia è letteralmente bellissimo, lei è bellissima anche se non è proprio il mio tipo di donna, è molto bella questa spirale, il rosso e il nero sono i miei colori preferiti, spirale in cui compaiono figure strane, figure mostruose, armi da fuoco, figure non rassicuranti, infatti l'albo si chiama Visioni, siamo al numero 310, luglio 2024. Allora, innanzitutto c'è a dire una cosa, che a parte il fatto mi è piaciuto, non mi è piaciuto, il voto, 6 e mezzo, 7, 8, 5, non è questo che importa. La cosa che mi stupisce di Giulia e quindi di Giancarlo Berardi e chi lo aiuta di volta in volta nel soggetto della sceneggiatura, in questo caso è Mantero, la cosa che mi stupisce è comunque la capacità nello scrivere dei soggetti e delle sceneggiature che sono sempre comunque di buon livello. Di buon livello cosa voglio dire? Alla fine puoi dire l'albo non mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi ha annoiato, non mi ha annoiato, ma non si può non riconoscere agli autori di Giulia di inventarsi sempre qualcosa di nuovo, personaggi nuovi, sfide nuove, avventure nuove, indagini nuove, che in teoria dovrebbero essere la normalità per i fumetti. Ogni fumetto che ha la sua particolarità, che sia un fumetto thriller come Giulia, un fumetto horror, un fumetto giallo, un fumetto fantasy, un fumetto ironico come potrebbe essere ad esempio Alan Ford, tutti i fumetti dovrebbero compiere il loro dovere, ma ultimamente purtroppo, lo dico, la normalità diventa la qualità numero uno. Quindi in un mare magnum di mediocrità, parlando perlomeno di bonelli e bonellidi, anche un numero, secondo me, non eccezionale come questo, ma comunque più che sufficiente, risulta essere qualcosa di molto molto gradito, proprio per quello che dicevo. Berardi è capace ogni volta di reinventarsi, lui stesso come scrittore, e di inventare delle storie comunque originali. originali cosa vuol dire? Mai che sanno di qualcosa che tu dici ma sì, ma questa cosa l'ho già vista, l'ho già letta, l'ho già sentita. No, no, anche gli albi più sciatti di Giulia che ci hanno accompagnato, soprattutto nel periodo 2022-2023, sono degli albi nei quali c'è sempre una moltitudine di personaggi, di elementi che ti fanno pensare che gli autori non si accontentano di darti il compitino, non si accontentano di sfidare il passato quando non ne sono capaci, di riproporti il passato quando non ne sono capaci, ma solo perché non hanno idee nuove, e non propongono soggetti improponibili come quello dell'ultimo Dylan Dog, soggetto e sceneggiatura da buttare via, perché non si spiega, cioè non si spiega, cioè nel senso o la prendi a ridere un soggetto come l'ultimo Dylan Dog, se no lo butti, lo lanci. Visioni, di cosa parla? Allora, Visioni innanzitutto attinge ad un tema molto particolare, io sono appassionato di queste cose, criminologia, psichiatria, devianza, soprattutto devianza giovanile, sociologia, parla di schizofrenia. La protagonista, questa signora, Brenda, una signora che sembra avere una forma di... una forma di una malattia degenerativa, tipo, insomma, quelle malattie che ti costringono purtroppo su una sedia a rotelle, che piano piano vanno un pochino a limitarti i movimenti, questa signora Brenda sembra una chiaroveggente, è una signora che vive in una... così, in una delle tante case della periferia americana, è comunque sorvegliata dalla figlia, e tutto quanto, e queste doti di chiaroveggenza si traducono in... praticamente in dei racconti che lei farebbe alla figlia in un qualche modo, in quello che ricorda e via dicendo, e la figlia li trascrive su carta. La cosa strana è che questi racconti, appunto, come ho già accennato, sembrano proprio prevedere delle azioni da parte di criminali, e quindi sembrano coincidere spaventosamente con eventi criminosi che si stanno succedendo, quindi ogni qualvolta avviene un omicidio o qualcosa del genere, lei lo aveva in qualche modo visto attraverso queste visioni, poi lei soffre di schizofrenia, altro argomento molto molto delicato, quindi non si capisce se le sue sono visioni, se è chiaroveggenza, se appunto queste visioni sono date dalla malattia che ha, quindi la schizofrenia, che schizofrenia, così, facendo un riassunto breve della malattia, non so se avete visto, ad esempio, il film stupendo A Beautiful Mind con Russell Crowe, che è appunto una malattia terribile perché comunque ti fa immaginare persone, suoni, parole, situazioni che ti mettono a dura prova perché vivi completamente catapultato in una realtà fatta di situazioni e personaggi che non esistono. Qui potrei aprire un'altra parentesi sul fatto che chissà se la schizofrenia è veramente una malattia o è una dote per pochi che riescono a vedere persone e situazioni che noi, tra virgolette, normali, ammesso che io sia normale, o ammesso che altri siano normali, non riusciamo a vedere. Di qui mi è sempre sorta spontanea una domanda quando vediamo anche per strada queste persone che parlano, che urlano, imprecano e diciamo sono pazzi. Chissà che magari loro non vengano catapultati in mondi e situazioni che noi non possiamo vedere e vivere. Quindi qui si potrebbe aprire un dibattito infinito. Comunque questa signora di fatto ha queste visioni e vengono messe nero su bianco dalla figlia Chloe. Di qui in poi ne parte tutta un'indagine, visto che, appunto, come dicevo, coincidono troppo questi racconti della signora, queste visioni, con quello che sta succedendo. Infatti, vediamo che, appunto, viene assoldata Giulia proprio per questo, proprio dalla figlia di questa signora Brenda, e si incomincia a indagare nell'ambito delle cliniche che hanno avuto come paziente questa signora, Brenda, e con le persone che lei frequentava. All'inizio sembra che questi pazienti, insomma, potessero essere coinvolti in questi omicidi, ma poi si arriva a un finale che, secondo me, risolleva un albo un pochino macchinoso, forse, come svolgimento. Però, ragazzi, il macchinoso qui è anche giustificabile, perché, ragazzi, stiamo parlando di visioni, schizofrenia, una figlia che, comunque, poi si scopre alla fine che era un'aspirante scrittrice, e non vi dico altro che mette nero su bianco le cose della madre. Si parla di cliniche nelle quali era ricoverata questa signora, e quindi medici che l'hanno sorvegliata, piuttosto che altri pazienti che le stavano attorno. Capite che anche solo così di elementi ce n'è tanti. Poi avvengono questi omicidi, c'è una certa assonanza con quello che racconta questa signora tramite queste visioni, e quindi vedete che, purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna il racconto è macchinoso, perché ci sono tanti tanti elementi con un finale, a sorpresa, devo dire, che mi ha spiazzato. Ed è qui, cioè, diciamo, è proprio qui, questo è il senso del fumetto, nel senso, a me il fumetto è piaciuto, non è piaciuto, ma il fumetto mi è moderatamente piaciuto, mi erano piaciuti i due numeri precedenti un po' di più, perché li avevo trovati un pochino più ritmati, questo ha un racconto un pochino più lento e macchinoso, come ho già detto, ma non è questo che importa, non importa quanto sia importante il mio parere o la soggettività della cosa, è importante l'oggettività della cosa, è oggettivo che comunque chi scrive Giulia, e l'ho detto nel numero precedente, ha un qualcosa in più rispetto ad altri. Giulia, chi ama il thriller, ma anche l'horror e il giallo, e non ama Giulia, purtroppo, secondo me, non capisce nulla di fumetto, cioè, purtroppo è questo, purtroppo chi non ama Giulia, e ama il thriller, il giallo e l'horror, si merita l'old boy, non si merita altro, si merita con la ciofeca dell'old boy, che propone soggetti ancora impantanati negli anni Ottanta, quella lì è una pubblicazione sciagurata, nata sciagurata proprio, cioè nel senso, quando è stata ributtata, termine che fa anche assonanza con l'inglese reboot, quando è stata ributtata, nella nuova versione, con due, cioè nella nuova versione bimestrale, è stato fatto uno scempio, perché i lettori andavano in cerca del vecchio Dylan, e questi gli hanno dato il Dylan Dog, che ancora parla nelle cabine del telefono, non capendo che il vecchio Dylan Dog, che noi tutti vogliamo, è il Dylan Dog che indaga sui casi, il Dylan Dog seduto sulla poltrona, con le mani messe così, il volto corrucciato, e le gambe accavallate male, che parla con i suoi clienti, e si, le sue, alcune delle sue clienti, o delle sue, diciamo, fiamme, questo è il Dylan Dog che vogliamo, che indaga su grandi fatti, non volevamo, l'old boy che propone, una versione risciacquata male, del vecchio Dylan, a metà degli anni Ottanta, ma anche qui, non ci hanno capito un cazzo gli autori, e ci hanno dato quella ciofeca dell'old boy, conclusione, se non amate Giulia, o perlomeno non lo apprezzate, e vi meritate l'old boy, vi meritate l'old boy, e vi meritate il peggior Nathan Never, e il peggior Martin Mister, non ci sono altre spiegazioni, cioè, non ci sono altre spiegazioni, purtroppo mi duele dire questo, ma secondo me, vedendo come la gente ha aggredito Calia, e come continua a non dare i giusti meriti a Giulia, cioè, dati di vendita, che siano ufficiali, non lo so, danno una testata in caduta, libera da anni, come Dampir, che vende più di Giulia, e questo è inspiegabile, ma questi sono i tanti misteri che affollano la mia mente, fortunatamente, cioè, sfortunatamente i miei problemi non sono i fumetti, sono altri, ma che Calia e Giulia siano due testate che presentano delle protagoniste donne, e magari ci sia un po' di maschilismo e di fidenza verso le donne, quando qui tutti fanno i buoni, fanno i bravi, ma magari alla fine, quando c'è da dare il merito a, diciamo, quelle che sono categorie un po' bistrattate, solitamente un po' sottovalutate, tutti questi buontemponi, questi moralisti, non tributano i giusti meriti, stiamo costringendo Calia alla diminuzione di pagine, diminuzione di prezzo, probabilmente, se va avanti così, non la vedo molto bene, ma spero di sbagliarmi, i primi fumetti che scompariranno della Bonelli purtroppo sono quei due, tre, quattro, spero non ci sia Giulia, ma e questo è quanto, ragazzi, se non amate, se non amate, se non riuscite a discernere queste cose, vi meritate l'old boy, vi meritate i marti mister, ma manco quelli attuali, quelli che uscivano, cos'era, bimestrale, quello che aveva 160 pagine, più o meno, e vi meritate poi nemmeno i migliori Nathan Never, i peggiori Nathan Never, i peggiori Dampir, vi meritate quella roba lì, perché se no non si spiega. Detto questo, due cenni sui disegni, allora, in questo numero c'è poco di di nuovo, però sono molto interessanti, secondo me, queste visioni che ha questa signora Brenda, che sono sottolineate da tavole un pochino diverse, un pochino più, diciamo, che giocano sui grigi, le ho trovati davvero interessanti e suggestivi. Vedete? Quindi, diciamo che, ecco, guardate, ci sono scene di puro orrore, perché qua, qua ci sono omicidi secchi, ci sono coltelli che partono dalla gola e arrivano fino al cervello, quindi, chi mi dice che Giulia non è un fumetto thriller con i controcazzi, vabbè, lasciamo stare, ho già detto quello che penso, quindi, ragazzi, leggetevi l'old boy Martin Mister, Nathan Nevere e continuate così, va bene. Con questo è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se vi piacciono i miei contenuti e al prossimo video. Ciao!